Oggi ci troviamo con Don Piercarlo Contini, parroco in merito della parrocchia di Sagnino. 50 anni di festeggiamenti per la parrocchia, la ricorrenza è importante. I suoi 60 anni ha voluto fare un grande regalo alla comunità. Aggiungiamo al concerto delle campane altre tre, perché quando abbiamo messo le prime cinque poi avevamo predisposto anche per altre tre, dopo non si poteva allora metterle, perché tra l'altro i costi erano quelli che erano. Adesso invece possiamo aggiungere queste tre campane, così avremo un bel concerto di otto campane. Dialogheremo con Chiasso, che è anche la parrocchia di Chiasso a otto campane. Don Piercarlo, un'emozione importante è questa dei 50 anni della parrocchia, nonché i suoi 60 di sacerdozio. 50 con questa comunità, con la comunità di Sagnino. I suoi ricordi importanti e l'augurio che vuol fare ai suoi parrocchiani. Bene, ho già detto tutto su questo numero del giornalino della parrocchia a colloquio. Vorrei aggiungere un augurio a tutti i miei parrocchiani, che ritengo ancora tali, anche se non sono più io il parroco adesso, diciamo, ufficiale, perché riprendano o comunque continuano il cammino iniziato con l'entusiasmo dei primi giorni. Questo è il mio augurio.